Non abbiamo grandissime emergenze. Sarebbe bene che non ci facessimo male neanche con le nostre mani. Capita a volte che si brucia un capannone industriale, non c'entra niente con la terra ai fuochi. Questo capita a Milano, a Brescia, a Pistoia, a Prato. Ogni volta che capita in Campania viene la fine del mondo e scattano collegamenti del tutto fantasiosi. La certificazione sulle condizioni ambientali e di salute la fa l'autorità sanitaria, non la si fa a fantasia. Mi auguro che manteniamo tutti un atteggiamento di grande correttezza e consapevolezza per evitare di farci male con le nostre mani.